La situazione attuale del terminal container del porto di Ravenna dimostra una certa solidità, anche se stiamo vivendo ancora, siamo sulle orme del pre-coronavirus, perché ci sono dei tempi di sbarco in barco e di arrivo delle navi che sono più lunghi del mese e mezzo, due mesi. Quindi stiamo ancora ricevendo quello che non aveva avuto influssi negativi da parte della difficoltà di mercati in tutto il mondo. Le prospettive sono, io spero ancora con ottimismo, visto che stiamo parlando di capitani coraggiosi, spero siano ancora in grado di poterci mantenere la nostra attività con livelli accettabili. È chiaro che oggi subiamo un influsso negativo dovuto al fatto che nel suo insieme l'economia mondiale ha avuto un calo terribile. Sono comunque ottimista, anche se devo dire che per la prima volta la nostra azienda è di fronte al problema di acquisire una parte di cassa integrazione, lo stiamo preparando proprio adesso per vedere di limitarla al minimo, ma credo che sarà difficile evitarla. Per riassumere, un auspicio di buona tenuta nei prossimi mesi che saranno i più difficili e nello stesso tempo la considerazione che i nostri dipendenti sono eccezionali perché hanno sostenuto un momento critico per loro e per le famiglie continuando a lavorare pur garantendo il massimo di sicurezza, il massimo di condizioni di rispetto dei decreti ministeriali. E in un momento di estrema difficoltà come questa, tanti ci segnalano che la carica maggiore arriva proprio dai lavoratori e dalle loro famiglie. Sì, è così anche per noi. Sulla containeristica a Ravenna sono coinvolte più di 250-300 persone. Non ho visto un caso di dipendenti che abbiano avuto timore di non essere sufficientemente garantiti. Questa è una dimostrazione di attaccamento anche in un momento così terribile. E questo vuole anche dire che il porto per l'economia italiana significa garantire il rifornimento di tanti prodotti che oggi servono alle famiglie. Diciamo che questo doppio ruolo dei dipendenti nostri del porto ha significato sì cercare di mantenere il lavoro, ma nello stesso tempo dare anche un contributo alle attività che servono e che sono inderogabili per il paese. Devo dire che hanno messo insieme questa consapevolezza che la loro attività non significava soltanto svolgere un ruolo per TCR ma svolgerlo anche per quella società di cui le loro famiglie fanno parte. Credo che anche questo sia stato un incentivo. Lei ha fatto tantissimo anche per l'Università di Ravenna e per gli studenti che l'hanno frequentata e che tuttora la frequentano. Un messaggio per loro? Che cambia la loro mentalità rispetto alla nostra, che siamo magari un po' più indietro. Infatti quando vengono le classi di studenti, gli stessi studenti universitari, a visitare il Terminal Container si vede subito che loro hanno una dimestichezza con le nuove attività di collegamento. Ecco, questo forse può essere utile perché la mentalità dei giovani di oggi è molto più avanti rispetto a quella che avevamo noi. La nostra era un po' più diplomatica, la loro è molto più secca, molto più concreta, molto più legata alle opportunità che ci dà il mondo. Ecco, questo significa essere all'altezza dei tempi. Loro la mentalità ce l'ha, noi eravamo un po' più retro, però da questo insieme di esperienza e di rigore io credo che possano nascere delle buone prospettive soprattutto per loro e soprattutto per un paese che deve essere in grado di competere ormai col mondo, sia nella cura del virus, sia nella ripresa commerciale ed economica.